Non sarà facile tenere aperte le scuole nel periodo estivo per cercare di far recuperare il più possibile a bambini e ragazzi non tanto i debiti scolastici, quanto piuttosto socialità e apprendimenti sacrificati a causa della pandemia da Covid-19. Ci sono diverse criticità da risolvere, sia in Abruzzo che nelle altre regioni italiane, spiega il segretario regionale del sindacato SNALS Carlo Frascari, esprimendo perplessità sulla circolare del Ministero dell'Istruzione. Il personale della scuola di per sé deve apprendere dei giorni di ferie obbligatori e quindi il personale di segreteria, il personale docente, sicuramente nei mesi di luglio-agosto, almeno dal 10 luglio, diciamo così, alla fine di agosto, la maggior parte non sarà disponibile. Quindi si tratterà di ricorrere a enti esterni, come prevede la circolare ministeriale. Vanno affidati i minori e le persone a enti che non sono di per sé all'interno dell'amministrazione scolastica e questo è un problema. La premessa che fa la proposta da circolare è che sostanzialmente la gran parte degli alunni della nostra scuola italiana ha avuto delle carenze a causa di questo anno di problemi pandemici dovuti a carenze sociali, per la mancata frequenza, e a carenze di modalità organizzative dell'istituzione, quindi carenze di insegnamento. Ora noi diciamo, ma guardate che la gran parte delle scuole sono rimaste aperte, perché ci sta solo una parte delle scuole che hanno lavorato in didattica a distanza e non per tutti i periodi, quindi soprattutto nel primo ciclo tutta questa esigenza, come se la scuola non avesse funzionato, francamente non la comprendiamo. Fra l'altro la circolare prevede tre step, l'ultimo dei quali che dovrebbe essere fatto in settembre, perché il tutto è volontario, sia chiaro, sia da parte delle famiglie che degli insegnanti. E quello magari è un discorso diverso perché poteva essere questo votato al recupero di certi apprendimenti che magari sono mancati per svariate ragioni durante l'anno scolastico, ma le altre due noi vediamo molte difficoltà sia organizzative che pratiche per la loro realizzazione. Non è che la scuola è un centro di vacanza, insomma, oppure se noi pensiamo che la scuola possa essere utilizzata anche per queste cose, allora va riorganizzata l'intero sistema.